Un'azienda grande, ma soprattutto una grande azienda, fonda il proprio operato su valori condivisi, costruendo relazioni con i propri stakeholders, sia interni che esterni, che non possono prescindere da una visione di lungo periodo e quindi socialmente responsabile. In questo contesto, in BNL e Gruppo BNP Paribas, riconosciamo un ruolo fondamentale alla corporate social responsibility nelle strategie di business, che si realizza attraverso solidi rapporti con i nostri clienti in iniziative comuni, che ci portano ad incentivare lo sviluppo sostenibile nella società in cui viviamo. Siamo la banca per un mondo che cambia e ci impegniamo a cambiare il mondo per un futuro migliore.